Buongiorno a tutti, ci troviamo qui a parlare di Torino, che per noi sarà una partita fondamentale per iniziare adesso il percorso, essendo usciti dalla Coppa, che ci deve portare ai play-off. Quindi, adesso tutte le partite dobbiamo avere l'obiettivo, essendo in ritardo in classifica, di giocare per vincere e per recuperare il gap dall'ottavo posto. Torino sicuramente arriva da una brutta sconfitta, da un periodo poco fortunato per le vicende extracestistiche che sicuramente ha condizionato un po' la squadra e sicuramente anche per una questione di rivalità che c'è con la nostra tifoseria, ci sarà un ambiente caldo, pronto a dare il massimo, la squadra per recuperare dalla brutta prestazione di Venezia e l'ambiente per aiutare la squadra e perché gioca contro Cantù. Noi siamo consapevoli di quello, andiamo lì per giocare tutte le nostre carte. Caratteristica loro principale è sicuramente un po' le loro situazioni di post-up, dove con White, Mancinelli, probabilmente Ienga, se giocherà, e anche con il loro playmaker, penso potranno andare molto e provare ad attaccarci con questa situazione tattica. Noi abbiamo le nostre idee e cercheremo di porre rimedio a eventuali problematiche. Però ripeto, la cosa fondamentale deve essere la consapevolezza che adesso iniziano una serie di partite che per noi sono fondamentali e quindi dobbiamo essere pronti a affrontare la partita nel modo giusto.